view che tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con un'altra opening un po speziata sempre esotica roba ocg ma non siamo qua con un box classico ma con il secret utility box che appena arrivato poi eccolo pronto ovviamente ragazzi però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jack store il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece forza will e digimon trovate anche instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante servo a parlare detto questo procediamo con l'unboxing allora andiamo ad aprire il box e vediamo effettivamente all'interno cosa contiene perché nel pratico non mi sono spoilerato niente perché volevo avere sembra figo una reaction vera con voi vediamo cazzo sembra una figa fatta bene cosa che da noi non c'è mai allora poi da qua apriamo no ragazzi che figata è no ragazzi ragazzi non so se rende ma che figata è voi perché non potete toccarlo ma c'ha tipo la foilatura delle collector è molto più bello di una classica collector senza parole guardate i dettagli che poi da come so di secret utility box ce ne stanno sei differenti noi abbiamo trovato quello di fuoco e ci è andato proprio bene tiriamo fuori le carte vi faccio vedere effettivamente cosa si può trovare no no ragazzi ma è pieno di roba abbiamo questo dadino rosso col drago di fuoco questo che credo debba essere un deck box adesso proviamo a montarlo sì è un deck box problema è che dovrebbe essere semplice da assemblare cosa che in realtà non è dovrei avercela fatta abbiamo questo deck box brandizzato yugi molto bellino facile anche da montare quindi ci sta figa proprio come idea poi senza che lo apro perché sono spastico anzi no lo apriamo abbiamo poi questo field center molto figo sempre col logo del drago tutto di fuoco ma per qua è opaco ma molto bellino cazzo veramente tanta roba un pacco di sleeve che ragazzi parliamone con quelle di kurikara ma quanto sono belle senza senso forse vado con questa veramente tanta roba poi abbiamo questi quattro pack e la promo la promo ovviamente quella di kurikara poi vediamo quali sono le altre abbiamo quindi questa bellissima kurikara che dovrebbe stare tipo sui 12 euro onestissimo e questo insetto del merda che non frega un cazzo a nessuno però bello perché c'è la fogliatura dei team del 2019 in più abbiamo quattro bellissimi secret pack da poter aprire adesso andiamo a vedere sperando di trovare qualcosa di figo nel pratico non so i trick non so niente non voglio tagliare neanche tanto perché rischio veramente di tranciare le carte allora abbiamo anche qua la fogliatura a quadrettoni molto bellina abbiamo questo che sto di dd non so perché da noi costa un euro e 50 poi abbiamo teschio cronomalia teschio di risale cronomalia questa tipo incanalatrice incantatrice qualcosa questa non la conosco un trick star forse questo è un mostro sincro a caso questo è un mostro pendolo e vabbè è la tana del drago bianco molto bellina tanta roba secret parallel così poi abbiamo boh pendolo exis questa preta pianta che boh bellina come target di super poli comunque il trick è a 3 quindi le ultime 3 devo cambiarle comunque ragazzi vorrei far vedere i dettagli eh guardate che belli tanta roba questi sono il genere di prodotti che mi gusterebbe avere in italia ma che la konami non so per quale oscur motivo decide ogni volta di cannare e saltare vabbè ma collo ma collo sta cosa e le compro dal giappone abbiamo mostro ginshki questa che se non sbaglio tipo salta il turno salta la droface poi yamato questo era un dark lord tipo carta zombie dasher molto carino così questo non so che cavolo sia l'ho già visto però non me lo ricordo carta fotonico super ci sta carina poi mostro alla nera e come ultima no allora non mi piace per niente però ho un po le scene di guerra di quando pepe era full power ma ok dai tanta roba allora andiamo col terzo pack e vediamo effettivamente cosa riesco a trovare fermi ragazzi un secondo se volete supportare questo canale vi basta solamente mettere mi piace commentare e iscrivervi a voi questa cosa non cambia niente ma a me da un supporto enorme perché mi permette di far arrivare questi video a tutta la community più che altro perché entro fine anno vorrei arrivare a 5k so che questa cosa è molto difficile anzi quasi impossibile ma se ci mettiamo tutti insieme ce la possiamo fare grazie mille a chi lo farà allora andiamo con il terzo pacco che non mi si vuole aprire speriamo che c'è qualcosa di buono allora è un mostro con effetto no aspetta è una super il mostro con effetto allora abbiamo neos fusion l'occhio di timaius che vorrei avere ghost carta inutile carta inutile cronomia carta inutile e carta weather paint ma da noi non è mai arrivata sta roba bella poi abbiamo vabbè il ninja che da noi usciva da op e poi non so da dove altro carta mai vista penso sia un tanner sincro carta fotonica e poi abbiamo una fusione bellissimo bellissimo e la fusione tra anatema del drago e il mago nero credo dai ma ragazzi allora non costa tanto perché dovrebbe costare una roba come 4 euro e 50 però veramente figa e il nome tanto per per darvi una news in più è dark magician the magical night of dragons vabbè ragazzi senza senso troppo bello veramente veramente figa come carta che culo veramente che culo allora andiamo con l'ultimo e spero in un'altra bomba del genere vediamo cosa riesco a tirare fuori speriamo in un'ultima carta top abbiamo favoloso delfino fusione questo che è un eh non mi ricordo l'archetipo vabbè allora altra carta favoloso carta in easter carta jimmy puppet mi sembra no ghost trick scusate questo che roba bella questa questa è la fusione tra neos e drago armato adesso super non rende per niente però secret è veramente figa poi abbiamo la carta che si gioca in dragon link e per concludere ma la fogliatura rende tutto bello però cazzo poteva essere veramente lui vabbè dai comunque non mi posso lamentare assolutamente ho trovato delle carte incredibile e il prodotto ragazzi è stra approvato vabbè ragazzi che dire prodotto assolutamente stra approvato perché se non erro dovrebbe costare sui 35 euro e per quello che ti dà assolutamente promosso perché tanto avete le sleeve che comunque se le andate a comprare dal giappone le pagate almeno 20 euro il deck box il fill center che sicuramente non è quello di carta che abbiamo noi in più avete 4 pack che contengono roba discretamente onesta carina anche da collezionare perché tanto parlamoci chiaro sta roba è solo collezionabile visto che tanto da noi non possiamo giocarla però comunque adesso non è per dire ma questa è veramente figa anche se la vedete un po' de merda pur di cara anche questa così non è assolutamente male ok non è quella nostra che costa 50 euro però ve dirò non è male per giocare con gli amici alla fine già ho quello detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti